Seconda serata domani, alle ore 21.30, nell'incantevole cortile del castello Marchesali di Camerota del Cartellone, per la quarta edizione del Camerota Festival, allestito dall'Associazione Culturale e Musicale Zefiro, preseduta da Giuseppe Marotta e diretta dal compositore Leo Cammarano, con il concerto finale della Masterclass di Clarinetto di Valeria Serangeli, prima parte solista dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Un evento questo sostenuto dal Comune e dalla Proloco di Camerota, unitamente al Meeting del Mare, all'Enteparco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al Conservatorio di Musica Martucci di Salerno e al Centro di Musica Contemporanea di Milano, oltre ad un folto cartello di mecenati privati. Si esibiranno i migliori allievi del corso, Elena Baccadiello, Rosita Cammarano, Genaro Chirico, Rocco Elefante, Anthony Marotta, Vincenzo Sgueglia e Michela Tuzio, interfacciandosi con la docente. In programma il convegno di Amilcare Ponchelli, per due clarinette e pianoforte, una trascrizione dall'originale per banda, datato 1857. Gran finale con lo splendido suono di Valeria Serangeli, che dedicherà al pubblico di Camerota il suolo dal terzo atto della Forza del Destino, di Giuseppe Verdi.